sentiero natura che da campigna si fa salire verso il monte falco un po' ripido si raggiunge l'asfaltata che seguirò per qualche centinaia di metri non molto e poi si inizia a spingere di pedale e di braccia bene bene la salita non è dura siamo sempre in una bomba è pieno di moscerini fortunatamente sono mosche e non mosche cavalline o tafani il buto è che col fiatone se becchi la folata di mosche ne mangi un chilo e lo so magari sono anche giovani vergogna va bene siamo andati a scuola tutti con l'elettrica male qui molto male verso il falterone non si può non si può strafare l'idea di salire sul falterone comporta che la bici non è più a spinta ma sulla mia schiena una rievocazione dei vecchi tempi entriamo nella parte nuova mai fatta con prima discesa dal falterone abbastanza ripida tornantini bella però bella attenzione dice momento di brivido molto ripido prendiamo la linea partito indietro e via da dove siamo? capodarno andiamo a vedere va un po' va un po' faccio una pisciata qui arrivi a Firenze Pisa adesso la faccio non c'è la gente niente però la faccio due un po' vai per notte signorino sono lei della cantina ho fame le crocicchie 1406 noi andiamo verso la maccia qua c'è un bel sentierino gustoso che fa venire voglia ma proseguiamo questo è proprio il sentiero è veramente una foresta sacra ripartiamo in direzione la maccia tanto qui si pedala il fresco eeeh qui si scende in realtà non ho guardato se c'erano bivio ma oooh 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 si vede che cazzo bello bello un po' di bastoni un po' di legnetti un po' di legnetti vado che passaggini siamo anti molla tutto uh oh attenzione 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 questo non è flu beeello uuuuuh uuuuuh che fai l'imbecille poi ti cattiga qualche pietrone qui 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 e qui no 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 uuuuh rischiato gli alberi signori signori castagno d'andrea un'ora e quindici sentiero diciotto curve di livello non proprio pianeggianti mi alzo un po' l'inclinazione dalla goprova ho l'impressione che si scende un po' qualche pezzo un po' vertical e il problema ecco già ho sbagliato si capisce un cazzo un po' il muretto il problema è che si perde facilmente la trazza qui destra sinistra destra destra ahhh 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 forse era meglio sinistra si 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 ha ancora un po' meno stress non so nemmeno dove sia il sentiero è un po' sporchetto no sbagliato di qua è un sentiero decisamente tecnico ci sono tratti decisamente ripidi con pietrone dove bisogna scegliere accuratissimamente accuratissimamente la linea perché se si sbaglia c'è un cazzo ci piace qui ci piace ci piace ci piace ma non so mai cosa c'è dietro la curva ahhh tornantino un po' di pietre molte pietre sardici sentiero finito uscita leggermente in salita quindi non delle migliori il sentiero se non è pulito è un po' un calvario comunque tecnico non consigliato a tutti anzi a pochi c'è il sole c'è il sole senti che sole l'unico che si trova all'ora di pranzo sotto lo schiopo del sole chi è? alla cosa la 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 Ho taggiato un'altra muscina. Becco qualche pedone, vado a finire in braccio. Vado a fare una collettina, però li prendiamo qua e la fluttiamo giù, qua. Lo facciamo lì, lo rifacciamo qua. Un pezzo tecnico. Lo facciamo qua. Andiamo andando. Ma l'acqua. Qualcosa non ha funzionato. Yuppi yuuu. Ma troia. Forse ero una mosca. Forse. Non riuscivo a frenare. Mi aspettavo la puntura. Il pizzicone. Tecnico. Un momento tecnico. Con il sgarruppo sulla sinistra. Le culacce. Un po' che droia. Sì, è un po'. Sì, è un po'. Sono arrivate troppo light. Non si è fatto le culacce bis. Ma le culacce. Versione 1. Sono sempre belle. e qui qui no qui dai facciamo un po di spinta lì ho atterraggio sui pietrulli che sfrirraigata che ho fatto ahhh tecnico a tutti i finali per i più goduriosi subito qua si collega il ballatoio e partendo da monte falco ci sono almeno 5 6 chilometri infernali vabbè però genziro si chiude qui si ritorna campigna domani un altro giorno giorno 2